benvenuti in questa nuova lezione del corso su come gestire la sicurezza cantieri in digitale e in particolare questo corso è dedicato all'approfondimento su quella che è ormai globalmente riconosciuta come l'app di riferimento per creare checklist e gestire i processi di sicurezza direttamente dal telefonino cioè e-auditor anche oggi la lezione sarà e il suo approfondimento sarà con Simone Leandrini che saluto nuovamente ciao Simone benvenuto Simone con cui abbiamo nelle lezioni precedenti approfondito i diversi passaggi da quelli più semplici di creare una checklist sui le attività ispettive di cantiere con la classica situazione sì no non applicabile e poi siamo andati invece nelle funzioni più evolute quindi la possibilità nell'ultima lezione di eh organizzare eh non tante checklist ma una sola checklist per esempio sul ponteggio con le sue funzioni eh di controllo sul ponteggio ma con il flag sul pulsante ripeti che cosa voleva dire? Voleva dire fondamentalmente che una volta preparata questa checklist di base si poteva ripetere n volte quanto erano i ponteggi da controllare ad esempio nel cantiere ponteggio lato ovest, ponteggio lato sud, ponteggio lato nord significava sostanzialmente ripremere il famoso pulsante aggiungi e quindi veniva riproposta la checklist che avevamo predisposto n volte quante fosse stata necessaria poi all'interno del cantiere bene lì abbiamo iniziato a vedere un po' le funzioni eh più evolute di e-auditor eh oggi invece andremo a fare un passaggio ulteriormente più approfondito e cercheremo di capire le reali grosse potenzialità di auditor quindi non solo la semplice checklist non solo la checklist a sua volta replicabile ma la possibilità che e-auditor offre di utilizzare le funzioni logiche cosa succede se, dove vado se, senza aver bisogno di scrivere nessuna riga di codice con un semplice drag and drop scendendo il meno giusto si possono fare delle checklist molto complesse ad esempio bisogna andare a vedere un impianto a pressione o un'intenzione elettrica allora se la pressione è inferiore a tot bar aprimi questi punti di controllo se la pressione è superiore a tot bar allora aprimi questi altri punti di controllo e varie funzioni eh ulteriormente che si andranno a tecnicamente si dice nidificare cioè fare dei nidi dentro eh nel processo di eh creazione di una checklist logica questa è la vera grande differenza di e-auditor rispetto alle altre app la possibilità di arrivare a un livello di programmazione senza scrivere righe di codice bene allora questo è il cappello generale per capire in questa lezione dove andremo insieme con Simone che è uno dei a livello nazionale uno dei più profondi conoscitori di e-auditor eh andiamo a vedere effettivamente come si possa realizzare queste funzioni logiche senza spaventarci sono molto semplici una volta capito il meccanismo in realtà non richiedono impegni eh di particolare complessità prego Simone iniziamo a questo percorso sì fondamentalmente intanto condivido lo schermo fondamentalmente è più complicato parlarne che farla vedere la cosa poi noi come come si è detto a te orti e te Daniele veniamo dalle vecchie versioni di e-auditor dove c'era un po' più di complessità in questa in questa parte quindi ci siamo ritrovati piano piano una vita molto più facilitata senza ombra di tutto hanno fatto veramente un bel lavoro di evoluzione di semplificazione e non è un caso insomma che tra gli unicorni no riconosciuti a livello mondiale cioè quelli che quotano più di un miliardo di dollari i-auditor è un unicorno e tra le app per creare checklist o processi di controllo insomma è riconosciuta a livello globale come sicuramente uno standard di riferimento non quoterebbe un miliardo di dollari insomma a livello di mercato alla wall street esatto allora noi ripartiamo vabbè dal modello che stavamo creando la volta scorsa e già che ci siamo si può notare già una piccola chicchettina che avevamo creato e che è arrivata in maniera programmata però possiamo farne vedere il risultato ovvero se ci ricordiamo bene la volta scorsa avevamo aperto a un certo punto un'azione su un requisito non conforme durante la nostra ispezione dove fondamentalmente a mod di memo ci ricordavamo di compiere una determinata una determinata situazione cosa tipica in cantiere c'è una cosa che non va il coordinatore dà una prescrizione operativa come dicono i termini di legge quindi si ha 24 ore 48 per 48 ore per sistemare la non conformità esattamente quindi al gruppo di lavoro con quelli interessati che erano coinvolti in questa in questa gestione di situazione critica riscontrata si prevedeva di fare un certo tipo di cosa nel nostro caso una riunione di coordinamento su un problema del ponteggio eccetera eccetera questa cosa l'avevamo poi salvata come vediamo qui in questa azione quindi realizzare la riunione di coordinamento con la ditta di installazione del ponteggio e l'avevamo aperta fondamentalmente nove giorni fa era segnata come to do quindi da fare quindi non era ancora stata completata e se andiamo a vedere il dettaglio avevamo messo come scadenza il 31 marzo addirittura con un orario diciassette e sedici l'avevamo presa in maniera molto così standard nel mentre il 31 marzo alle diciassette e sedici che succede io l'interessato perché ci stavamo lavorando solo col mio profilo ma potrei aver condiviso daniele o il mio gruppo il mio team di lavoro e per mail è arrivata la notifica di questa azione ora mi metto in condivisione direttamente allo schermo se non si vede la parte ecco per mail arrivava questo ovvero alle diciassette e sedici come si vede dalla mail che è arrivata arriva tramite safety culture e auditor e ci dice ciao simone guarda che hai creato un'azione con scadenza ventiquattro ore fa va un po a vedere che che è che magari te la sei scordata insomma ci ha pensato pure non manda un pro memoria sostanzialmente esattamente quindi nel momento in cui clicchiamo il link vediamo di nuovo rimandati direttamente alla nostra al nostro dettaglio dell'azione in cui ci ricorda che fare quindi magari questa riunione effettivamente l'abbiamo fatta la smarchiamo come completata possiamo aggiungere ovviamente un aggiornamento quindi riunione eseguita in data 0 1 0 4 2022 perché abbiamo avuto un giorno di ritardo per problematiche a trovarci e questa cosa qua ovviamente viene riscontrata da me che l'ho creata da me il destinatario perché abbiamo fatto unicamente però sarebbe condivisione con tutto il gruppo di lavoro con il mio team di lavoro con le altre persone interessate è una delle caratteristiche abbiamo detto sempre importanti di auditor che si può utilizzare singolarmente come studio professionale singolo oppure se si fa parte di un team di lavoro avere un gruppo all'interno del quale puoi condividere non solo le checklist ma anche gli alert la programmazione degli eventi e via diciamo esatto e questa cosa un'altra cosa molto carina e gli auditor non l'hanno pensato a caso anche da questo punto di vista io che sono molto qualità tese nove mila uno versioni duemila uno in poi è tutta la tracciabilità anche delle modifiche quindi le informazioni documentate che non sono poca cosa perché io già qui ho l'evidenza di tutta una tracciabilità e di documenti di informazioni documentate che posso dare ovviamente al mio interlocutore che sia un organo di vigilanza che sia il cse e così via il datore di lavoro e questa è un altro punto di forza inevitabilmente perché senza dover ammattire creando moduli creando sistemi strutture per dare evidenza di un'informazione io già qui mi ritrovo quello di cui ho bisogno esatto ogni atto che faccio sull'app e la creazione alla creazione di un suo registro quindi poi non bisogna mattire in ufficio nel compilare il modulo perché il fatto stesso di averla esportata viene registrata e poi viene esportata nel report delle attività che vengono fatte quindi un risparmio di tempo davvero un tema sì sì assolutamente quindi tornando poi invece al nostro modello noi abbiamo preso quindi il nostro modello check demo revisione 1 2022 rientrandoci dentro e tutto giù la colonnina quindi invece che iniziare l'ispezione andiamo nella sezione editor modifica modello e come il modello viene costruito perché poi una volta predisposto può essere utilizzato n volte no per fare le ispezioni quindi stiamo creando la base il template modello presupposto attraverso il quale poi quando apriamo l'app di auditor diciamo ok quale checklist mi serve per fare questa ispezione ponteggio bene apro questa esattamente e come abbiamo visto la volta scorsa il modello a un certo punto crea una checklist abbastanza complessa non da poco però in fase di auditori vedete la situazione è molto pulita e molto snella alla fine abbiamo un blocco generale per il ponteggio un blocco per le gru però abbiamo visto come fossimo in grado di poter creare più ponteggi più gru e per ognuno di questi di questi item poter andare a selezionare per tutta una serie di requisiti noi oggi ci addentriamo un pochino più nello specifico nel senso che avevamo visto la volta scorsa che tramite una funzione logica queste qua sulla sinistra sotto sezioni la funzione logica che avevamo inserito la volta scorsa era stata questa ovvero nel momento in cui ci aspettiamo un certo tipo di risponso voglio che il sistema mi proponga un altro tipo di item di verifica in questo caso la nostra situazione qual era era il fatto di richiedere su questa richiesta due pulsante di scarico a terra dell'impianto laddove ci fosse stato un risponso negativo quindi selezionando il no dovesse il sistema presentarmi questo blocco qua di riscontro ovvero la possibilità di fare una fotografia al pulsante e descrivere brevemente in poche righe cosa stava avvenendo cosa stessi osservando in questa situazione. Se avessimo risposto sì questo tipo di attività non sarebbe comparso. Esattamente come vediamo proprio nell'anteprima sulla destra noi abbiamo cliccato no compare il menu fotografia pulsante descrizione evento laddove io invece avessi cliccato sì quella parte di menu scompare totalmente e non viene ripresentata. Esattamente in questo caso noi possiamo andare poi a raggiungere un successivo requisito sul quale implementare delle nuove funzioni logiche. Questo perché? Perché potremmo fra virgolette barare, passami il termine Daniele, nel senso che utilizzando le forme di risponso a scelta multipla io posso crearmi più menu e magari non sto conducendo un riscontro di un requisito ma semplicemente voglio crearmi una navigazione all'interno del mio modello per aree e quindi andare a nidificare il mio modello in diverse sezioni a seconda della scelta che io faccio nel requisito iniziale. Cosa voglio dire? Supponiamo che al requisito uno anziché essere un requisito di analisi io voglio creare una sezione in cui vado a aprire determinate aree piuttosto che altre sulla base di una scelta fatta, quindi ponteggio. Io voglio controllare ad esempio le basette. Di queste basette io vorrei poter allegare delle foto, di queste basette vorrei poter andare ad auditare dei requisiti, di queste basette vorrei capire magari chi ha provveduto all'installazione di questa parte. In questo momento qua io so che il risponso è quello che avevamo la volta scorsa, sì, no, non applicabile, ma io posso creare un risponso come abbiamo visto anche nella prima lezione del tutto personalizzato. Aprendo questo menu e andando a creare risposte a scelta multipla, quindi più risposte, io entro in un menu in cui creo di nuovo il mio risponso, solo che questa volta non lo creerò per dare un giudizio a questo requisito che sto osservando, ma voglio dare una sorta di classificazione per uscire in un'area piuttosto che in un'altra. Quindi ad esempio nel nostro caso, installatore, fotografie e successivamente potremmo mettere un'altra parte che possa essere area del punteggio. Non gli assegno nessun tipo di punteggio perché non mi devono prendere punteggio questo tipo di scelte. Se al capitolo Basette avessimo messo dei sottocapitoli in cui devo guardare Basette, sì, mi interessano installatore, mi interessano le foto di Basette, mi interessano le zone di punteggio, cioè un menu a scelta come se fosse dei sottocapitoli di Basette. Esattamente, esattamente. Salvo e allora in questo caso io so che quando arrivo a Basetta in questo momento posso cliccare installatore, fotografie e zone del punteggio, però ancora non sta succedendo niente. Perché? Perché non le abbiamo ancora creato una vera e propria funzione logica. La funzione logica che ci interessa a noi qual è? Prima di tutto la possibilità di scegliere più di queste opzioni, quindi la selezione diventerà multipla. In questo caso vedete sulla destra come cambia la disposizione, proprio in forma grafica di questo item delle Basette. Se non lo seleziono, lui mi presenta i vari responsi lineari e lì hai solo la possibilità di sceglierne una. Esatto. Qua invece posso fare una scelta multipla con tanto di filtro di ricerca laddove inserisca più elementi. E in questo momento, come vediamo, posso andarne a selezionare più di uno. Ancora però la cosa non è completa fino a quando non inserisco anche qui una funzione logica. E ecco che la risposta è installatore oppure io posso andare a dire che sia una cosa specifica fotografie oppure zona del ponteggio. Nulla mi vieta che lo farò ovviamente per tutte e tre, nel senso che inizialmente voglio sapere l'installatore, chi è. Quindi selezionerò un risponso poi di tipo testuale. Quindi descrivere un nominativo installatore. Quindi io ho creato tre menu. Poi vado sulla funzione logica, sotto Basette vedete che è diventata gialla. Quindi stiamo parlando di funzioni logiche. E vedo Basetta, un menu di tre voci. La domanda è cosa succede se io scelgo installatore? Se io scelgo installatore mi si apre il campo testuale dove, lo vediamo a destra, c'è descrivi nominativo installatore. Quindi in quel momento mi serviva sapere chi è, no? Non mi interessano le fotografie, non mi interessano gli altri requisiti, voglio solo scrivere in quel momento perché mi serve il nome dell'installatore. Se la funzione a cui rispondo è installatore. Esatto. Supponiamo che oltre all'installatore io voglio allegare anche una foto e perché la Basetta è stata installata male, lo voglio far notare, voglio far evidenziare ovviamente il nominativo dell'installatore. Allora aggiungo un'ulteriore funzione logica, come vediamo qua. Qui ho sbagliato io. Ci riposizioniamo su Basetta. Di nuovo, funzione logica. Abbiamo la prima, come abbiamo visto, creata qua. Installatore. E cosa accadrà? Una seconda, sempre in riferimento all'item precedente, quindi in questo caso Basetta, fotografie. Quindi mi dice se la risposta è fotografie. Che faccio adesso? Bene, in questo caso fai una bella cosa. Selezioni la parte foto e quindi allegare foto. Ecco che in questo momento sulla destra, a Basetta, io seleziono fotografie, dovrò allegare una foto. Ma non solo. Io posso anche voler sapere chi è l'installatore. Seleziono due responsi, secondo gli auditor. Ripeto, stiamo un po' barando, però questa è una piccola chicca che ci serve molto perché non solo mi sono sbloccato la parte delle fotografie, ma ho anche il nominativo per l'installatore. Se a questo non sono ancora soddisfatto e voglio indicare anche la donna del... Scusa, Simone, lo ripetiamo. Mi posiziono sulla riga di Basetta, ok? Alla cui, una volta posizionato, vado sul menu a sinistra e aggiungo una nuova funzione logica. Che si vede la funzione logica, c'è installatore, fotografia, è come se fosse una specie di mini menu all'interno di Basetta, dove il sistema mi dice che succede se scegli installatore, che succede se scegli fotografie e adesso che succede se scegli invece l'autorequisito. Esatto, quindi zona del ponteggio, di nuovo, anche qua potrebbe essere una funzione testuale, stiamo sempre sul semplice, quindi indicare la zona del ponteggio, quindi ponteggio lato nord, ovest, eccetera, eccetera, e anche qui possiamo compiere una breve descrizione o ovviamente selezionare in un altro tipo di risponso. Nel momento in cui le selezioni... La funzione geografica di geolocalizzazione, no? Assolutamente, potremmo metterla in quel caso posizione e quindi in questo caso la geolocalizziamo tramite ovviamente il GPS del dispositivo che stiamo utilizzando. Anzi, per l'altro l'ho vista mentre scendevi il menu, per esempio se avessimo scelto installatore, avessimo messo nome e cognome del soggetto che l'ha fatto, poi volevamo anche la firma del soggetto che sta con noi, che lo identifica. Torniamo qua, aggiungiamo un nuovo item e chiediamo la firma, quindi firma dell'interessato. E di nuovo ci ripropone, adicuare nominativo, firma dell'interessato, foto e indicare la zona del ponteggio. Questo è perché ne abbiamo indicati due, ne avessimo indicati uno solo, avrebbe fatto vedere solo nome dell'installatore e firma dell'interessato, cioè lui si muove sostanzialmente sulla base delle esigenze che noi esprimiamo, avendo preparato prima una funzione logica che vuol dire alla funzione basetta, oggi che stai andando in cantiere, cosa ti interessa? Oggi tu ti attrai gli elementi e domani che è arrivato in cantiere, cosa ti interessa? Uno solo degli elementi e quindi ti permette di muoverti con assoluta flessibilità. Assolutamente, assolutamente. Le altre cose, le altre situazioni di funzioni logiche che tornano comode, quali sono? Quando magari vogliamo assegnare un certo tipo di punteggio a una situazione, uscendo magari da una logica di verifica, come può essere quella sul punteggio, può essere esempio quando qualifichiamo un fornitore, quando vogliamo dare anche un punteggio di conformità rispetto al requisito richiesto e qui entrano in gioco ad esempio le funzioni slider, chiamiamole così, ovvero nel momento in cui io di fronte a un item, quindi possiamo prendere una casa e crearlo da zero, quindi supponiamo che io qua in questa situazione noi vogliamo definire un punteggio di conformità, conformità della situazione riscontrata, quindi supponiamo che noi, come a volte ci insegnano un po' i sistemi di gestione, adottiamo un certo tipo di criterio, punteggio da uno a quattro, dove uno è una situazione praticamente non conforme, quattro è una situazione che risponde pienamente a requisiti di conformità, noi potremmo mettere in questa parte una situazione, come vediamo qua, di numero, di numero che significa? Significa che praticamente lui si aspetta un... Il campo ci scrivono solo numeri, non lettere e altre cose. Esatto, quindi se io vado a digitare come sto provando a fare in maniera testuale, lui non comprende nessun tipo di valore. Se invece gli do dei numeri, allora sì, in questo caso li sta leggendo. Aggiungendo una funzione logica a questa situazione, ecco che, come vedete, cambia la funzione, chiamiamola così, di se, fra virgolette, ovvero se il numero è meno... Scusami, Simone, già che così facciamo vedere anche le classiche funzioni logiche che lui automaticamente, se hai inserito un campo numero, ti propone e hai a disposizione senza mattire. Quindi se un numero è meno di, oppure è minore ma anche uguale, no? Perché a volte c'è il problema che i limiti del superiore e inferiore devono essere inclusi. Oppure solo sia uguale a quel determinato numero. Oppure tutti i numeri, no? Ma non uguale a, ok? Oppure è maggiore o uguale a, più grande di, si trova tra e dai un range di valori, oppure non in mezzo in quel range di valori. Quindi tra vuol dire si trova nel mezzo di quel range di valori, se invece non in mezzo vuol dire che sta sui lati estremi del range di valori. Quindi in maniera molto semplice, faccio un esempio, se la pressione o il voltaggio o gli anni di, o i mesi della formazione, no? Del certificato della formazione o i mesi del DURC stanno tra il primo di aprile e quattro mesi successivi, quindi aprile, maggio, giugno e luglio, quindi se il primo aprile e il trenta di luglio, il DURC è regolare. Se stanno al di là, no? Non in mezzo tra il primo aprile e il trenta di luglio, il DURC è irregolare, ok? Quindi è un modo per definire dei range che mi danno regolare piuttosto che regolare sopra la pressione o sotto la pressione. Esattamente. Quindi supponiamo in questo caso, diamo questi punteggi da 1 a 4, una situazione abbastanza banale e abbastanza caratteristica. Supponiamo che per i punteggi minori o uguali a 2, quindi potremmo fare una situazione di questo genere, minori o uguali a 2, in questo caso il risponso sia di situazione situazione non conforme. Laddove invece, di nuovo mi riposiziono. Come Daniele? Per spiegare, ti rimetti di nuovo sul punto di partenza, rimetti una nuova funzione logica a sinistra. Eccoci di nuovo qua e in questo caso invece diciamo che sia uguale, in questo caso a 3, quindi mettiamo situazione conforme ma non ottimale, chiamiamola così, e poi ultima funzione laddove sia uguale a 4, in situazione ottimale. No, che può essere o uguale a 4 o uguale a 4 o superiore, insomma, no? Può dipendere O superiore, certo. È possibile che la mettiamo. Lì possiamo giocarla un po' come vogliamo, fondamentale. Allora, l'importante è che sulla sinistra si vedano quali sono i menu delle risposte delle funzioni logiche. Se è inferiore a 2, che succede? Se è uguale a 3, che succede? Se è uguale a 4, che succede? Questa è la funzione, che poi sarebbe un classico. if, cosa fare se la risposta è questa, ok? Un'utilizzo 2 o 3 o 4. È praticamente il parallelo, l'omonimo dell'if di Excel. È un parallelo di Excel per chi l'ha utilizzata. L'unica cosa da stare attenti in questi casi, qual è? Nel momento in cui io seleziono comunque il risponso che mi deve dare la situazione, la funzione logica, dovrò trovare anche qui una forma di risponso congrua, nel senso che o lo elimino completamente, altrimenti come vediamo qua, io nel momento in cui seleziono 2, lui mi propone una situazione non conforme, però comunque mi continuano a leggere dei risponsi. Il sì, il no e il non applicabile. Quindi in questo caso potrebbe essere tranquillamente... La foto è la descrizione della non conformità. Esattamente, quindi potremmo metterci una foto o una descrizione, quindi giocare sulla tipologia di risponso, altrimenti la cosa sarebbe un pochino... striderebbe con quello che vorremmo come risultato finale. No, infatti, questo potrebbe essere... se per esempio siamo nella funzione inferiori a 2, quindi non c'è una conformità, come abbiamo visto prima io posso mettere un evento di programmazione, metto foto e un evento in modo che questa azione mi ricordi che io ho una necessità di mettere in regola la conformità. Se invece la conformità è uguale a 3, quindi si è conforme ma non ottimale, io mi debbo a questo punto inserire una... anche qui notazione chi è il responsabile, quindi ho i nomi di Marco Rossi, Giovanni Verdi, che deve prendersi in carico questa responsabilità. E se fa parte del gruppo che viene condiviso in auditor, lui riceve un alert in cui c'è scritto che guarda la zona TOT e si conforme ma non ottimale. e tu hai la responsabilità di intervenire. Se invece la situazione è ottimale, io voglio solo semplicemente mettere il nome dell'installatore che ha fatto la situazione ottimale piuttosto che la foto, oppure fotografare ad esempio un QR code per registrare da questo punto di vista e quindi metto soltanto la foto. Ok. Oppure come a volte capita quando la situazione è ottimale, oppure di non conformità, si può giocare in questi casi con il risponso di tipologia informativa, quindi istruzione. Nella serie mettere una cosa di questo genere, quindi situazione ottimale, nel momento in cui io seleziono un punteggio pari a 4 la situazione ottimale, lui mi dice ok, situazione ottimale, fine, tutto a posto, vai avanti, laddove invece... Oppure potrebbe essere vai alla procedura 5 della checklist, la situazione è ottimale. Quando noi modifichiamo questa parte dove invece il punteggio era minore alla conformità, stavamo chiedendo appunto l'installatore, la fotografia, la zona come avevamo visto prima, di nuovo mettiamo un'istruzione e nella situazione non conforme andiamo ad inserire, fare riferimento alla procedura XX in revisione 0.3 eccetera eccetera, però non solo questo, io comunque voglio interpellare anche l'installatore, quindi di nuovo risposta testuale, nominativo, installatore e voglio anche aggiungerci una foto di quello che sta avvenendo e voglio una firma da parte della persona interessata. ecco che cambia completamente in base al mio risponso la situazione, quindi situazione ottimale pari a 4, situazione ottimale, fine, vado avanti, situazione conforme ma non ottimale pari a 3, ok, la situazione conforme ma non ottimale, voglio l'installatore a fotografia la zona come avevamo fatto precedentemente, situazione pari a 1, quindi di criticità, guarda, facciamo riferimento alla procedura, comunque prendiamo il nominativo dell'installatore, facciamo una foto a quel che abbiamo visto e chiediamo una firma alla persona interessata. Questo è importante perché significa che io, anzi tra l'altro per esempio, noi abbiamo messo solo punto di non conformità, abbiamo messo numero, no? per evitare che ci sia, però quando nella situazione classica noi sappiamo che i valori che dobbiamo assegnare vanno in una scala da 1 a 4, noi possiamo fare anche un menu a tendina invece che lasciare un campo libero. Certo, assolutamente. E' proprio questa parte qua, invece che numero, andremo a prendere di nuovo una nostra personalizzazione di menu a tendina, quindi 1, 2, 3 e 4. Di nuovo non assegniamo il punteggio, altrimenti poi il report finale lo analizzerebbe. E ecco che in questa situazione qua lui mi prevede i vari blocchettini che posso lasciarli anche così come cliccabili, oppure selezione multiple per aprire una sorta di menu testuale, una sorta di menu a tendina e andarlo a cliccare il mio risponso che vorrò inserire. Quindi in questo caso qui per far lavorare quello che vedevamo prima con le nostre funzioni logiche, sulla base delle funzioni logiche riscontrate, lui in base al punteggio analizzerà tutte le funzioni logiche poi successive. Questi diciamo sono piccoli interventi che creano sempre di più una logica simil software di Auditor, quindi non è una checklist, come dicevamo anche all'inizio, una checklist presa, impostata e statica, ma è una checklist che piano piano vive e diventa sempre più dinamica, esce dalla staticità. Esatto, l'abbiamo fatto vedere prima, quanto diventi, più riusciamo a fare queste operazioni con la logica della semplicità del cosa succede se, abbiamo visto quanto si pulisca poi la checklist alla fine. Mentre abbiamo fatto il copia e incolla per ripetere le varie cose, qui adesso abbiamo semplicemente creato una checklist che riguarda la basetta, gli abbiamo dato le funzioni logiche, cosa succede a sé, e sotto ogni funzione 1, tra 1 e 3, superiore a 3, uguale a 4, si aprono poi di volta in volta delle funzioni, dei pulsanti di controllo, delle funzioni da attivare che sono di nostro interesse. Quindi in realtà paradossalmente più si entra nella logica della dinamica, come diceva Simone, di e-auditor, più in realtà noi andiamo a semplificare i diversi passaggi, perché come vedete abbiamo semplicemente pulito le varie checklist e fatto dei passaggi che sono limitati ad alcuni elementi che però grazie agli auditor si ripetono costantemente perché non dimentichiamo che la funzione ponteggio con all'interno una funzione basetta a cui scelgo 1, 2, 3 o 4, la prendo una volta, ma la posso ripetere 2, 3, 4 volte con aggiungi, perché abbiamo fregato il nostro a destra, vediamo sul capitolo ponteggio, ripeti questa sezione e ogni volta che la ripetiamo si ripetono anche le funzioni logiche che sono di per sé sottostanti. Quindi questo semplifica le operazioni. E così, Simone, facciamo vedere anche, perdonami, il fatto che questo del nidificare, cioè fare delle funzioni nelle funzioni, in realtà può essere una volta fatto, può essere a sua volta nidificato un'altra funzione. Cioè, se io faccio uguale 1 e scelgo, digita le dimensioni della basetta, se scelgo una dimensione superiore a un centimetro quadro, poi devo programmare un intervento. Certo, sì, un intervento. Certo. Allora, questa è una situazione che torna bene, ad esempio, quello che dicevi prima, quando si fa un riscontro magari su delle caratteristiche di un impianto, di una varvola, ad esempio, vedere la pressione, vedere certi tipi di caratteristiche, tipologie della situazione che stiamo analizzando. Noi potremmo fare, ad esempio, aggiungere una nuova pagina e partire con una nuova sezione, dove andiamo a vedere pressione impianto. Quello che mi interessa adesso, in questo momento, è capire rispetto a cosa, tutta una serie di valvole che ho sull'impianto, la relativa pressione. E se questa pressione sta in un certo range, riscontrare una situazione conforme, ottimale. Laddove questo range non sia riscontrabile, andare ovviamente ad aprire un certo tipo di situazioni per andarle a sanare. Quindi, come per le gru, come per il ponteggio, la prima cosa da poter fare qual è? Andare a creare innanzitutto una sezione, perché con la sezione, troviamo questa, con la funzione di ripetere questa sezione, io di nuovo potrò crearmi cosa? Quante valvole vorrò fondamentalmente. Quindi valvola e lui poi piano piano me le ripetere. Valvola. Sì. Mi piace Valenza oggi. C'è il traduttore. Vediamo se così lo frego. Ok. E per ogni valvola cosa vorrò vedere? Una cosa molto semplice e banale. Dovrò indicare appunto la pressione che sto leggendo. Quindi, pressione letta. In questo caso mi aspetterò un campo numerico, è inevitabile, e dovrò dare ovviamente dei range che io già so. Questi range io potrei innanzitutto ricordarmeli attraverso una funzione che possa essere quella delle istruzioni. Quindi, andandola a mettere anche sopra la parte di pressione, e dire ricordarsi che il range stabilito sia tra un bar e due bar. Sì, ogni volta che io apro ho l'istruzione su cosa devo ricordare. Una sorta di memo, come vediamo proprio qua. Quindi ricordarsi il range. Pressione letta. Se riapre prima la funzione, c'è anche la possibilità dell'aggiunta di un'immagine per vedere in un manometro in che posizione deve collocarsi, ad esempio. Esatto. Quindi, di nuovo, si carica un'immagine proprio standard, il nostro logo, però qui possiamo mettere qualsiasi tipo di immagine che vogliamo. Nel momento in cui leggiamo la pressione... In questo caso, una tipologia molto utilizzata quando si lavora sui tetti e ci sono le linee vita, che in cantiere è una delle attività importanti, quando non c'è il ponteggio, vedere che tipo di basetta c'è, che tipo di attacco, che tipo di passante viene utilizzato, fa grande differenza. Però, siccome nel mercato ce ne sono tantissime, allora quella che in quel cantiere è stato scelto di utilizzare, avere la foto, ricordare le sue caratteristiche, e verificare che tipo di targhetto di codice QR c'è, certo, aiuta a ricordare, a stabilire ok con uno, non ok con due, da intervenire con tre. Assolutamente. Assolutamente. Quindi, arrivati a questo blocco, lettura della pressione, sappiamo che noi vogliamo eseguire un certo tipo d'azione in base al riscontro di questa pressione. Quindi, utilizzeremo inevitabilmente una funzione logica per la quale noi stabiliremo appunto il nostro range. Quindi, laddove sia minore di 1, abbiamo una situazione quindi non consona rispetto ai nostri requisiti. Che vogliamo fare? Allora, innanzitutto, voglio fotografare il manometro, per esempio. Quindi, prima cosa, foto del manometro. Oltre alla foto del manometro, voglio poter definire, tramite la funzione appuntamento, andare a creare un'azione verso il contenitore. Il soggetto che ha la responsabilità della manutenzione dell'impianto. Esatto. Voglio inoltre poter descrivere cosa avvenga, quindi risposta testuale, quindi descrizione testuale, eccetera, 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 e da lì mi fermo. Nel momento in cui, invece, il range sia rispettato tra 1 e 2, quindi mi riposiziono di nuovo sulla lettura della pressione, aggiungo un'ulteriore funzione logica, che di nuovo, vediamo, si accorpa a quella creata precedentemente. quindi laddove il range invece sia tra 1 e 2, che è il nostro range ottimale, allora qui mi basta semplicemente un'informazione, niente di che, tutto ok, oppure quello che ci vogliamo mettere, inevitabilmente, ulteriore funzione logica, laddove invece la pressione sia superiore a 2, esatto, più grande di 2, di nuovo, voglio una foto del manometro, foto manometro, e in questo caso qui voglio andare a ricordare all'operatore o voglio ricordarmi per conto mio che si rende obbligatorio chiamare immediatamente il responsabile di impianto per intervento. Ecco, la cosa che dicevamo prima, invece di mettere, per esempio, un fotomanometro, noi possiamo anche fare, o aggiungiamo adesso una nuova domanda e dobbiamo vedere se è più grande di 2, ok, per far vedere, nidificare uno sotto l'altro, se è più grande di 2, a questo punto se è più grande di 2, noi potremmo trovare ulteriormente un menu a tendina che ci dice se è più grande di 10 e se è più grande di 20, che cosa fare? Cioè stiamo nidificando dentro la nidificazione logica precedente. Esattamente. Quindi in questo caso, invece che la foto del manometro, noi andiamo ad inserire, ci posizioniamo sul primo, inseriamo una nuova domanda, queste le togliamo e diciamo, con una funzione di risponso che andremo a creare in questo caso, quindi il manometro segna tra 10 e 15, sì, per esempio, oppure il manometro segna tra 2 e 9 e terza soluzione, quarta soluzione e così via. Possiamo creare quante ne vogliamo. Ricordiamoci che quando facciamo questi tipo di scelte togliamo sempre la parte di punteggio. Possiamo assegnare anche dei colori per dare vita a un response a un layout un po' più carino da un punto di vista visivo che non è mai male. ecco che in questo caso selezionare il risponso potremmo metterla o anche lì come vogliamo possiamo dire che questa situazione sia di di obbligatorietà quindi ho letto una pressione maggiore dei due bar adesso assolutamente temi di avvi dare un risponso in questo momento altrimenti non ti faccio andare avanti con la cerchia e di nuovo qua inserisco un'ulteriore funzione logica e ecco che di nuovo se il risponso è il manometro segna tra 10 e 15 a scappare per rompere riscaggiamente il flusso quindi andare al punzante di stacco chiudere tutto quello che si possa chiudere sotto forma di istruzione e così via possiamo caricare anche un'immagine per ricordare questa cosa ma non è detto che questo sia ulteriore funzione logica se il manometro invece sta segnando tra 2 e 9 possiamo richiedere di nuovo una foto un ulteriore risponso un'istruzione quindi possiamo aggiungere istruzione contattare responsabile di impianto per intervento per intervento e potremmo mettere poi successivamente un altro tipo di risponso che possa essere una descrizione di risponso che è stato rilevato esatto stato risponso operato ulteriore funzione logica per completare i nostri passaggi quindi lui ci dice se la risposta è uno di quelli che avevamo visto ora lui legge un 3 giustamente noi invece vogliamo dire che guarda può essere il 4 la quarta tipologia la quarta tipologia di risposta e allora lì ci inserisci una classica una classica checklist dove si no non applicabile no assolutamente quindi entriamo sempre di più nella possibilità di il classico detto l'appetito via il mangiando ma è la verità perché più andiamo avanti più ci accorgiamo che strutturiamo la nostra checklist al nostro piacimento sta solo veramente quasi alla fantasia di chi c'è dietro i semi classici offrono solo tutto il tipo di risposte che abbiamo visto in questo menu no si no non applicabile riscatto una foto aggiungi un'istruzione quello è chiaro sono presente in tutte le app ma la possibilità di creare delle sezioni e di nidificare più volte quante volte vuoi all'interno di istruzione ok hai visto la pressione tra 2 e 4 sì bene allora dimmi quant'è 4 allora se la funzione è 4 fai scattare l'allarme se la pressione è 1 riferisci al tuo coordinatore per l'esecuzione no quindi nei cantieri per esempio infrastrutturali per il gas quando i manomeni di controllo in fase di stand by quando sono ancora in fase di manutenzione della linea verificano questo allora tu devi rispondere al coordinatore perché hai trovato un pericolo grave e imminente in realtà mentre nelle checklist tradizionali sia su carta sia su app abbiamo l'infinito scorrere no ora ne abbiamo detto abbiamo fatto pochi passaggi ma se andiamo a prendere quelle che si trovano commercialmente nelle app più vendute del sistema della sicurezza troviamo 20 30 domande che vengono poste no e te le pongono in maniera sequenziale una dietro un'altra quando in realtà spesso e volentieri l'una potrebbe essere la risposta dell'altra per cui dice ok mi trovi in questa situazione sì mi trovo in questa situazione no se mi trovo allora che succede queste tre checklist mi interessano e non le altre 125 quindi in realtà si va a una semplificazione della vita però con lo sforzo di riuscire a non fare il cotto e mangiato cioè per il classico foglio sì no non applicabile sì no non applicabile quindi poi devi prenderne un altro perché ti devi fare tutte i 17 punti ti interessano solo due ma devi farlo perché hai tre ponteggi da controllare qui hai soltanto un passaggio questo è il pezzo fondamentale cioè ti concentri sulla sicurezza e lasci che sia l'app a fare la parte burocratica sostanzialmente assolutamente sai Daniele poi parlare di checklist con i audis ad un certo punto proprio alla luce di quello che abbiamo appena visto diventa diciamo irriconoscente nei confronti di audito perché usciamo proprio dal concetto di checklist ovvero di questa sequenzialità di item da riscontrare boom 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 sì no sì no non applicabile gli auditor esce completamente da quel concetto gli auditor passa dalla staticità alla dinamicità e possiamo creare una situazione completamente personalizzata sulla base delle nostre esigenze senza scrivere una riga di codice semplicemente mettendosi sulla sulla riga della tabella che ci interessa aggiungo la funzione logica col menu a sinistra e scegliamo le condizioni per cui a determinate situazioni valore superiore a 4 gru superiore ai 20 metri io vado a fare determinati controlli e non altri tutto bene certo ma poi pensiamo anche alla potenza dell'evidenza documentale ritorno lì molto qualità tese però è anche vero quante volte ci può capitare a me è capitato spesso con negli anni addiesi magari con gli organi di vigilanza che stanno guardando un bel ballo una relazione sopra al luogo e se è tutto testuale se è tutto riportato a riferimenti si fanno un certo tipo di idea magari anche un lavoro ben fatto ci mancherebbe cosa diversa è dare dei riferimenti riscontrabili solo attraverso qualcuno che è stato sul campo quindi un'immagine una foto una foto grazie alla funzione di editor delle immagini di auditor che riporta l'evidenziazione sul punto problematico fa tutto un altro tipo di effetto anche dall'altra parte soprattutto quando magari queste cose capitano in mano a un organo di vigilanza o a infatti mi hai detto una cosa importante così per far vedere anche la differenza se proviamo a compilare la parte della valvola facciamo una qualsiasi poi vediamo come esce il rapporto ora caricheremo sempre il tuo logo come immagine ma è importante sulla simulazione a destra se facciamo una scelta di un certo tipo l'abbiamo caricato ecco abbiamo fatto le diverse da zero valvola creiamo la nostra pressione letta supponiamo che sia come vediamo uno e mezzo ok tutto ok apposta si va avanti la seconda valvola invece ha una pressione di 3 bar e 7 attenzione ci siamo messi in testa che c'è un problema quindi in questo caso sarà 2 e 9 aggiungi una foto quindi alleggo di nuovo il logo che può essere invece ovviamente il nostro la nostra foto del nostro dispositivo descrizione dello stato riscontrato riscontrata pressione eccessiva contattato signor Leandrini alle ore 9.36 per questo lo possiamo fare per i metipoli di valvole no? cioè tutte quelle che troviamo all'interno del cantiere è un cantiere con il gas e quindi noi come coordinatori stiamo facendo i controlli insieme alle imprese valvola per valvola una cosa che non si vede lato desktop Daniele è che quando carichiamo l'immagine questa è una precisazione l'editor per poter agire sull'immagine quindi sulla foto della nostra valvola si apre solo sul dispositivo mobile non si apre il lato desktop noi adesso stiamo operando lato desktop però se l'avessimo fatto dal dispositivo mobile avremmo avuto la possibilità di creare la classica lineettina la freccia il cerchiettino come si fa normalmente sui telefonini ignora che si disegna sopra si aggiunge un testo per spiegare oppure si riduce l'immagine le funzioni classiche dei telefonini della fotografia in questo momento ecco se noi adesso andiamo a vedere il rapporto sul menu rapporto ecco questa è la nostra checklist antiprima pdf e andiamo a vedere che cosa ci stampa no? questo è il pdf con tutte le foto che sono state caricate e come diceva quindi Simone in realtà abbiamo fondamentalmente creato semplicemente facendo un click su un lavoro precedente che è stato di preparazione quindi di semplificazione assoluta però una volta fatto questo passaggio alla fine della giornata non dobbiamo tornare in ufficio fare attività complicate i back office no il rapporto è già pronto vedete c'è scritto il manometro tra 2 e 9 sì c'è le istruzioni e poi tutte le foto che abbiamo visto sotto che riguardano fondamentalmente il passaggio di controllo basta abbiamo finito no? se poi noi vogliamo condividere questo pdf accanto al rapporto c'è la condivisione e quindi sostanzialmente possiamo invitare altri membri a condividere o a pianificare un'ispezione sulla base del rapporto che noi che noi sostanzialmente abbiamo fatto scarichiamo il nostro pdf lo inviamo oppure dall'anteprima web lato web abbiamo la possibilità poi di ottenere un link per condividerlo ora in questo caso siamo in anteprima non ci può far vedere però a completamento dell'ispezione l'anteprima web genera un link passabile tramite whatsapp su whatsapp dove c'è tutto il gruppo degli ispettori lo metto lì e tutti vanno a controllare il rapportino che io ho fatto questo è sostanzialmente il passaggio fondamentale bene direi che abbiamo completato anche la parte di maggior valore aggiunto di i auditor nel creare checklist ovvero sia quello che per chi gli interessa semplicemente fare una normale tranquilla checklist sequenziale bene chi vuole arrivare a un livello un po' più evoluto può fare ripeti più volte senza grosse difficoltà e poi c'è un livello ancora più professionale ed evoluto di grande semplificazione dove entra il concetto di nidificazione cioè inseriscono una funzione logica che al variare della pressione al variare del numero distillate del ponteggio al variare della profondità dello scavo mi dà altre checklist da controllare a secondo della situazione che sto affrontando cosa però importantissima quando apro l'app non ci sono centinaia di funzioni che si no si no ma solo quella che mi serve in quel momento perché è un risparmio di forza e di energia per aver fatto un po' di lavoro prima insomma di di preparazione non il classico cotto e mangiato si ripara prima ma ci si ritrova poi dopo lo sforzo iniziale vale assolutamente la pena su quello su quello che si è fatto bene concludiamo anche questa lezione ringrazio nuovamente Simone Leandrini per le spiegazioni che ha dato e vi diamo appuntamento alla chiusura del corso un saluto a tutti quanti arrivederci un saluto a tutti qui si è fatta qui si è fatta Grazie.